ciao a tutti ragazzi e bentornati qui con un'altra puntata sulla north frisici marsh direi che possiamo iniziare con il nostro compattatore adesso vediamo facciamo scaricare lui qui e mettiamo in funzione il compattatore vediamo quanto ne abbiamo l'ultima volta che ci ho guardato eravamo intorno al milione one million di di pula adesso siamo un milione sette milione settecentomila abbiamo tutto il 41 nel 40 40 da finire il 41 da raccogliere che significa che siamo posti adesso vi faccio fare un giro con il nostro bell'aiutante di autodrive che scarica dentro al nostro bunker silo bunker se vi interessa sapere come funziona questa situazione qua sotto in descrizione trovate tantissimi tutorial dove vi faccio vedere come impostare tutto sto casino qua con percorsi e compagnia varia vedete tutti i percorsi di autodrive che ci aiutano a scaricare qua dentro noi non possiamo non dobbiamo fare più niente una volta fatto il lavoro che è molto lungo da da quel momento in poi siamo a posto infatti se ci fate caso io l'unica cosa che faccio è rifornire di additivo per insilato i miei caricatori perché questo ancora solo non lo fanno strano ma vabbè non è un problema almeno qualcosa la facciamo noi che io direi che posso tornare anche sul mio compattatore è compatto 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 allora una cosa voglio però farlo prima perché voglio andare a spegnere quella cacchio di produzione del vetro perché qualcosa la sopra non sopporto più rosso questi a proposito dovremmo mettere ci questi stanno lavorando dobbiamo mettere questi qua c'è vetro possiamo spedas spento ok no dobbiamo mettere poi i cosi in funzione però molto più avanti questi che questi se ne parla maggio agosto vediamo gli altri che noi siamo a marzo agosto maggio agosto luglio no allora niente il primo è maggio il primo è maggio ciliegie maggio poi tutto agosto poi luglio sì luglio maggio agosto ok allora compattiamo un po sta pula perché l'aiutante non me la spinge fino in fondo io vorrei ecco qua bravo vorrei spingerla spingerla fino in fondo così che almeno riempiamo bello pari pari il nostro bunker ok dai dai che di potenza ne hai da vendere andiamo a botta pure qua dai siamo quasi a 2 milioni dovremmo arrivarci ai 2 milioni con il campo 41 e 40 dovremmo arrivare ai 2 milioni di pula se avessi se trovassi un bel campo di mais potremmo riuscire a riempire ma devo prima vedere come si è messo il nostro bunker quanto biogas eh quanto insilato c'è dentro il mio bunker il mio al mio coso al mio biogas al mio cisterno ecco che mi veniva cisterno ehi e se io facessi un giro così comunque sarebbe bello fare tipo un multiplayer biogas multiplayer senza aiutanti abbiamo anche adesso ci sono tanti tantissime mod in tutte le giochi che per fare il multiplayer è un casino che dovresti girare tutte le mod e compagnie varie diventa troppo probabilmente ci possiamo provare magari una volta quando esce il 25 che lì ancora le mod sono pochine oh finalmente eh in quel caso riuscissimo meglio no non ti chiudere si riuscirebbe più facilmente a farlo no? ok adesso ci mettiamo l'aiutante oh oh botta course play bunker silo vai compattazione del bunker ora siamo al 52% non è male diamo un'occhiata ai nostri friends vediamo un po' cosa fanno perché qua non vorrei che si scontrano wow che cosa e cosa beh che porter che c'è che burdel che burdel fammi vedere chi ha che ha fatto burdel ha fatto burdel lui qui cioè quello che rompe le balle chi è quello che dovrebbe andare a casa non fare un tubo sono tutti qua in fila wow allora da destra precedenza vediamo se adesso si bloccano un'altra volta questi no questi si rispettano bravi così si fa che questi si rispettano no tu vatti a parcheggiare allora andiamo a vedere sto output quasi pieno che abbiamo in segheria segheria 2 cipato siamo a 482 è l'altra segheria è di qua no è di cui dall'altro lato l'altra forse ce n'è meno è assi ce n'è 107 corteccia, pallet vuoti questi vanno un'altra volta del diesel ma porca trota qua c'è pa... oh tutti e due sono quasi pieni quando mai la notte tutto il giorno e la notte non ce la facciamo dobbiamo svuotarli un po' porca la paletta ma dov'è questo percorso di sto tipo? e sul 30 perché ti vuoi tuffare in acqua qua? sul 30... sul 30 poi non sul 33 mh... sbagliato io sbagliato io 33 quello là sopra ah lui è andato là sopra con autodrive e voleva venire giù qua sotto con courseplay oh yes ci sarebbe poi riuscito alla grande ma qua forse l'avevo già fatto io aspetta fammi vedere mh... perfetto ci devo venire solo con il coso con... con la Bruin allora... allora... allora qua sta lavorando questo è finito? sì vanno sul 20 questo aspetta lo scarico questo è finito ok beh a questo punto non abbiamo più altra roba da seminare perché sul 52 e sul 51 uno va a tabacco e l'altro non mi ricordo cosa avevo detto ma comunque non è il periodo perché è sorgo avevo detto sorgo e tabacco 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 se ne parla più avanti ok no siamo a posto altri campi da seminare non ne abbiamo questa erba 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 adesso cresce dappertutto campi miei da seminare non ne ho più ok questi sono in fase di attesa qua abbiamo dato sia l'erba che sia la calce che tutto il resto adesso diamo un po' di calce all'1 e alla 2 il nostro compattatore com'è messo? perché ci sono due iottanti sul 42? questo si è perso questo si è perso che questo si è perso alla grande ok lui è a posto invece va bene non ho capito quello perché se è perso così vabbè ma è uguale ormai è andata questo sta lavorando benissimo questo facciamo una cosa che ti mando al tuo parcheggio per adesso o ehm vamos al lavaggio e lì non lo voglio mandare al rifornimento perché così almeno allora tu hai finito vabbiamo a parcheggiare lì se dovessimo aver bisogno ora diamo qua dall'erbicida e dal fertilizzante all'erbicida oh bel giro qui con la Bruin non ho capito Grazie. Oh. Allora, output quasi pieno. Tutti e due adesso me li dà l'indicazione. Ma adesso gli mandiamo il camion così che fa... Andiamo a riempire la nostra produzione carta. Con una facciamo produzione carta e con l'altra facciamo cippato. Se solo avessi un milione e qualcosa... Vorrei, vorrei, vorrei... Ah, ma un milione... Oddio, i mobili prendiamo un milione e due. Però perdiamo un casino di soldi. 522 cibo sui nemmeno quello non mi serve. Additivo mi serve. Oddio, tutta questa additivo non è che mi serve. Qualcosa possiamo venderlo. Tanto ce ne vanno poi 10 litri. Non è che ce ne vanno miliardi. Mi tengo qua i 7-8 mila litri. Tutto il resto lo vendo. Ok, il resto posso anche venderlo. Tanto non... Allora, questa erba... Aspetta, andate. Il problema poco fa qual era? Il New Holland. E gira ancora a vuoto se è successo, secondo me. Perché come erba siamo ancora fermi. 39, 40, 42... No, forse sta tornando indietro. Adesso lo teniamo sott'occhio. Poi vediamo. Perché il consumo non va giù? Strano, eh? Adesso comincia. Ah, lì probabilmente non ne voleva tantissimo. E il consumo non andava giù. Meglio, no? Meglio, meglio. Io spero che nel 25 arrivi subito Curseplay e Outdrive. Perché... E poi... Il problema è imparare di nuovo le mappe. È un casino. Ogni volta mi perdevo 50 volte. Che ogni volta mi perdevo. In Farmixmonet 22 abbiamo scelto Hot Belleron. Adesso voglio vedere quale venrà fuori. Ho visto che c'è una mappa americana. Almeno da quello che è. L'avevamo giocato anche con... La Elm Creek. Abbiamo fatto tutti e due. Elm Creek e Hot Belleron. Vediamo cosa viene fuori. Scusa, perché corri e non lavori? Vai, 60 all'ora e non lavori. Ma adesso sì. Mi sa che posso... Riempire il camion piccolino con delle RBC. Del fertilizzante me lo porto qua sopra. Che qua adesso ne consuma. Vuol dire che questa parte ne voleva un pelo di più. Ah, abbiamo finito qui. Che abbiamo finito? Questi secondo me non ne vogliono più. Vediamo. Sì, sono pieni questi. Allora, fammi trovare quel cacchio di New Holland. È questo? No? New Holland dove sei? Ok, qua ce n'è un po' fermi. Andiamo a vedere. Allora, New Holland non è qui. Non sei tu, va bene. Questa è la Bruin. Questo è il mio camion. Mi manca un trattore. Vacca trotta. Adesso dov'è? Dove sei? Ah, li zippiamo tutti. Campo 30. Ma tu non devi andare sul 30. Che poi il percorso... Ce l'ha sul 41. Secondo me ho sbagliato qualche trattore poco fa quando facevo... Cambiavo i percorsi e quella roba lì. Ok, almeno lui... Abbiamo sulla... Sulla retta via. Tu aspetti qui, va bene. Tu... Andiamo a caricare. Non l'additivo, ma le... Il coso? Un po' di erbicida. Visto che siamo qua, cosa facciamo? Che andiamo a caricare un po' di... No. Mi è venuto in mente che potevamo caricare un po' di additivo, portarlo in fattoria, ma... Con quello che abbiamo ci basta. Quello che abbiamo lì a Rozzuccherificio lo vendiamo. Tanto tener lì 400.000 euro di additivo... Tutto sto cosa non è che mi serve. Ok. Fa un po' di erbicida. Grazie a tutti. Taratata, riempiamo qua. Di fertilizzante possiamo anche riempire, tanto quello ci vuole. Altrimenti vuotiamo poi qua dentro. Allora, fertilizzante. Ah, l'altro giorno mi avete scritto... Adesso... Che cacchio, sto coso. Il fatto di... Che qualcuno cercava un camion di questi che poteva caricare, mi sembra che anche latte di capra. Io ho modificato l'altro, quello del camion, ci ho messo solo nella cartella XML, ci ho scritto latte di capra e funziona alla grande. Allora, 47. Vai. Questo qua, ci ho messo latte di capra, carica anche quello. Ok. Questo sta aspettando, vabbè adesso aspetta. Questi sono pronti, andiamo a vendere nella prossima puntata. Questo sta aspettando che dobbiamo seminare il luppolo. E questo sta aspettando sul campo 20 per andare a metterci un po' di calce. Va bene, fammi un po' vedere qua. Sì, calce... L'azoto va anche perfetto perché l'abbiamo messo con la seminatrice. Ok ragazzi, allora, io mi faccio un po' di calce qua sul campo 20. E noi ci rivediamo nella prossima puntata. Probabilmente abbiamo già finito di raccogliere l'erba, o ci siamo quasi. E vediamo un po' cosa ci tocca fare domani. Magari saltiamo la notte, vediamo un po' come siamo messi. Ma per adesso mi faccio qua, magari lo faccio off screen. E probabilmente mi finisco anche gli altri campi, così che almeno facciamo qualcosa di diverso. Perché secondo me abbiamo fatto 5-6 puntate solo di raccolta erba. Diventa un po' lunga da vedere. Ciao ragazzi, allora, appuntamento al prossimo video, sempre qui con la North Physician Marsh. Un salutone, grazie a tutti, ciao! 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 Ciao!